Spaccio di eroina, cocaina e crack, ma anche estorsione e detenzione legale di armi. Tra le principali piazze di spaccio, operanti a Rancitelli e formatesi in tutta fretta dopo l'abbattimento del ferro di cavallo. Siamo in via Sacco, via Mele, via Lago di Capestrano, dove in un palazzo popolare si era costituita una vera e propria centrale con tanto di installazione di porte inferiate e videocitofoni. Una risposta decisa a quella delle forze dell'ordine, in particolare dei carabinieri, contro la nuova piazza dello spaccio nel quartiere Rancitelli a Pescara dopo l'abbattimento del ferro di cavallo. Dopo un anno di indagini si è giunti stamani all'alba l'esecuzione di 14 misure cautelari di cui due obblighi di dimora firmati dalla GIP di Pescara Francesco Marino. Per i signori della droga, Pescara è area metropolitana con un flusso di 100 tossicodipendenti al giorno e perfino episodi di prostituzione. 70 gli uomini impiegati dai carabinieri di Pescara a Monte Silvano, con la collaborazione del nucleo elicotteristico, il nucleo cinofilo e i carabinieri di Monte Cassiano nella Maceratese dove c'è stato un arresto. L'attività investigativa diretta dal sostituto procuratore di Pescara Luca Sciarretta si è sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali grazie alle quali è emersa una realtà inquietante di spaccio continuo H24 da cui il nome dell'operazione giorno e notte. I soggetti individuati sono personaggi ben noti, indagati più volte appartenenti alle principali famiglie della criminalità pescarese. Tra i fatti accertati è anche un episodio di estorsione a danno di un acquirente. Le indagini sono ancora in corso per individuare eventuali legami con organizzazioni criminali più potenti. Un duro colpo dunque al quartiere generale della droga pescara dove fino a questa mattina si continuava tranquillamente a delinquere a poca distanza di ciò che arresta del ferro di cavallo il cui abbattimento non ha evidentemente scoraggiato la criminalità in un quartiere senza pace.